Noi esistiamo da poco più di 22 anni, ad oggi faccio una sintesi, abbiamo due offerte, una tradizionale è il mondo omnia che tanti di voi hanno e una nuova offerta che si chiama la piattaforma Infinity. Su questa piattaforma noi abbiamo sviluppato totalmente un ambiente web, abbiamo sviluppato tantissimo le relazioni fra studio e clienti, l'ordine di investimento della Zucchetti Spa negli ultimi due anni su questa piattaforma è stato nell'ordine di 20 milioni di euro, penso che sia una cosa estremamente coraggiosa. Sotto questo profilo vi invito ovviamente a vedere i nostri prodotti, siamo già a disposizione a fare delle dimostrazioni senza impegno, al desk abbiamo ovviamente le nostre signorine che saranno ben liete di prendere l'eventuale vostro biglietto e la visita, il tutto senza impegno. Ripeto, è una cosa interessante per il mondo Zucchetti e Vasto, ma dalle paghe ovviamente alla gestione di studio, al controllo di gestione, alla cosiddetta archiviazione elettronica dei documenti, quindi tutto perfettamente integrato, per rispondere al collega noi ce l'abbiamo comunque questa roba. Poi le do anche il mio di biglietto e la visita. Signore grazie.